C'è stato un flash mob molto bello, una manifestazione pacifica dove l'associazione ambientalista Fare Verde che ha avuto l'idea di organizzare il flash mob ha chiesto a noi come coordinamento di partecipare e ha esteso l'invito anche agli enti locali, alle associazioni di categoria e quindi stamattina tutti alle ore 11 ci siamo trovati in via Portoni Bandissolo dove dovrebbe sorgere questo grande impianto da 60.000 tonnellate di fanghi più 18.000 tonnellate di reagenti per un totale di 78.000 tonnellate annue e la circolazione di ben 5.000 camion all'anno Cambierebbe praticamente la vita a chi abita nel raggio di mille metri perché nel raggio di mille metri abitano ben 25 famiglie Siete preoccupati ovviamente per l'ambiente e per la salute? Siamo preoccupati principalmente per la salute pubblica, per l'ambiente, per i nostri campi Noi abbiamo 44 eccellenze sul territorio dell'Emilia Romagna, IGP, DOP e anche piantagioni bio Quindi noi siamo molto preoccupati dello spandimento che possa avvenire su questi territori Anche perché vedendo quello che è successo in Lomellina abbiamo contatti con dei tecnici sopra in Lomellina e lì c'è stato un po' di sversamento di fanghi che poi ha bloccato 164 comuni per 4 anni non possono più spandere Vi appellate alla Regione e al Governo, è così? Noi ci appelliamo sì alla Regione, infatti si è in corso il via la valutazione di impatto ambientale e dentro il giorno 20 luglio tutti i cittadini, gli enti locali eccetera possono presentare le proprie osservazioni e le contrarietà a questo impianto che dovrebbe sorgere Noi abbiamo già pronte le nostre e entro i 20 le manderemo Anche l'Ego Ambiente ha presentato e presenterà le sue osservazioni non ci fermeremo davanti a questo impianto Stiamo raccogliendo altre firme, un'altra petizione Nella prima petizione abbiamo raccolto 1200 firme adesso abbiamo già superato le 500 firme ma non ci fermeremo, andremo avanti con questa raccolta firme C'è un prossimo appuntamento, il 13 luglio questa volta o stellato? Siamo in sala consigliare del comune di Ostellato e spiegheremo ai cittadini l'impianto che dovrebbe sorgere le caratteristiche e tutte le cose ammesse e connesse a questo impianto sul territorio